Anche il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese partecipa al tavolo di confronto con il ministro per gli affari regionali Bocce al presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte oltre che il ministro della salute Speranza per fare il punto sulle misure di contenimento epidemiologico e per la tutela della salute pubblica. Le attenzioni di tutti si concentrano sul contagio dei giovani e in modo particolare anche sul problema delle scuole. In provincia di Salerno Baronissi, Sarno, Capaccio, Campagna, Battipaia sono alcuni dei comuni interessati da mini focolai che hanno costretto i sindaci a ricorrere a delle ordinanze di chiusura di plessi scolastici mentre gli alunni hanno potuto seguire le lezioni a distanza attraverso la DAD. A Scafati oggi chiusi tutti gli uffici comunali e le strutture sportive dopo il riscontro di 15 casi positivi e il contagio dell'assessore di massa sono 85 in totale i casi nel comune guidato da Cristoforo Salvati. A Salerno città invece dopo il riscontro di un caso di positività nell'operatore che era deputato a controllare l'ingresso nei bagni dei bambini è stata sanificata e chiusa la sede della scuola elementare privata Jean-Jacques Rousseau, aperto il plesso della materna. Il caso è stato scoperto attraverso uno screening al quale ogni mese viene sottoposto il personale. La dirigente scolastica ha preferito tenere chiusa la scuola e fare effettuare il tampone a tutte le docenti anche in assenza di uno specifico provvedimento da parte dell'Asla. In tutta la provincia di Salerno inoltre continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine. I carabinieri nell'ultimo fine settimana hanno effettuato 62 sanzioni per mascherina non indossata, 1678 le persone controllate, fondamentale l'approccio in strada soprattutto verso i più giovani prima di ricorrere alle sanzioni. I carabinieri hanno svolto un'opera di convincimento per un'adesione responsabile alle regole. Naturalmente nei controlli sono finiti anche i locali, 337 quelli controllati, 9 le sanzioni elevate anti-covid.